Lo so, lo so, è tardi, lo so, ma stanotte non ho dormito e quindi mi sono svegliata tardi, ho fatto tutto tardi, ho fatto tutto lentamente, però adesso sto andando, sto andando, a dopo, sì! Stamattina frutta fresca, come se piuvesse. Cos'è pepogna? Io voglio sapere che cos'è pepogna! Cos'è pepogna? Tarpuglia, banane è internazionale, dannate salite, e benedette discese! Oddio il carrettino della frutta, no! Sì, frutta fresca, sì, banana! Esatto! Sì, sacra solita! Sì, esatto! Fraze fruit! Fraze fruit! Tre! Grazie a tutti!